Ormai la situazione ristagnava. Le truppe spagnole si erano ribellate perché non riscuotevano il loro soldo e l'esercito si accampò presso Parma. Ritardai assai più di tre giorni e furono giorni diversi da quelli che avevo vissuto fino allora. Conobbi lo strano paese tutto di uomini che è un accampamento. L'esistenza arida e disadorna dei soldati intenti solo alla fisicità del mangiare, bere, dormire, esercitarsi con le armi, in lotta sempre con la materia. E pensai come sembrassi illuminato di apparizioni benigne il mondo di Venere a Marte, quello di Ginevra all'Ancillotto, quello di Isotta a Tristano. Arrivamo a Mantova per la via di Cremona, una mattina di tramontana, soleggiata e pungente che faceva vibrare il rosso delle mura di castello. Si discoprirono come nuove le pitture dello studiolo, specie i prospettici smalti netti e rilevati dei miei Mantegna. Francesco mi mandò incontro tutta la corte ma se ne restò chiuso nelle sue stanze per gli attacchi reiterati del suo male. Quando più tardi fumo insieme a pranzo, accennò alle nostre lettere, pareva distratto e in qualche modo intimidito nel vedermi calma e allegra. Per curiosità verso sera discesi la scaletta che portava alle sue camere. La porticina era serrata. Non però la mia esistenza recuperava una sua cifra giusta che dissipasse i miei affanni. Emersi dalle ceste, dalle casse, i vestiti e gli ornamenti che avevano brillato a Milano e tutto riposto a dovere mi trovai con le stanze in ordine ma inquieta. Quasi diventavo cattiva. La mia famosa aria di benevolenza che agiva da filtro su quelli che venivano a parlarmi perdeva i suoi poteri. Inviai al vicere Raimondo di Cardona una disciplina di quelle che usano i peccatori per fare penitenza percotendosi. Con questo dono simbolico esortavo ironicamente alla castità a quell'amatore troppo appassionato. Mi piaceva in quel momento far pagare allo spagnolo padrone di mezza Italia l'ostentazione delle sue frenesie per la brognina. Ci correvano dietro le sue lettere imbrogliate mandate a me prima fra tutte, considerata intermediaria delle sue galanterie seppure in tono devotissimo. Stabilito con lui un linguaggio di schermaglia amatoria piuttosto incitativo. Non avevo ora il diritto di proibirgli certe espressioni dubbie quale la preghiera di intercedere da santa ureolata presso l'amata sua. Lui si muoveva con una sua duttile agilità parando i colpi con l'aria di accettarli come favori ed io, anche se in certo modo offesa, non potevo però inimicarmi direttamente questo potente arbitro di vicende e mi sfogavo a chiedegli benefici piccoli e grandi. Più lo punzecchiavo, più il vicere spagnolo si insatanava della brognina e lei, incoronata da tanto amore, ne risentiva l'irraggiamento senza però vantarsene. La soppesavo, era bella davvero, sebbene troppo alta e sottile, con l'incarnato opaco, bianco, senza macchia, con gli occhi azzurri cangianti sul verde e sull'oro, molto grandi, molto lucenti, un po' incantati sul viso serio che diventava irresistibile nel sorriso. A Milano, dopo una sera di festa, il vicere le aveva regalato gioielli di raffinata fattura e due pezze di velluto, una cremisi e una nera, a significare la gioia di un bacio ricevuto e il lutto per un bacio rifiutato. E lei si coprì il viso con le piccole mani colma di pudore. Cominciai a prendere le distanze con la brognina per proteggere la fama delle mie donzelle e il vicere dovete saperne qualche cosa se mi supplicava di trattare bene la sua donna. Con un'impensabile goffaggine, credendo di illusingarmi, scriveva che la brognina mi amava molto e che nel servirmi mi rimirava con venerazione e amore. Freddamente alla sua presenza e di tutte le altre mie donne feci leggere dalla tortorina a quelle frasi ad alta voce perché la ragazza si sentisse colpita nella sua delicatezza e si guardasse bene dal mescolarmi alle sue storie. Piero Donati, sempre dedito alla mia persona, era, dopo il mio ritorno, visibilmente turbato. Non gli piacevano né le avventure delle mie donne né il mio modo eroico di addestrarle e non sopportava di vedermi così impaniata. Benedetto Capilupi, altro mio segretario, era invece così felice che fossi al mio posto in castello da fare continue allusioni alla mia vita di moglie. Mi raccontò che quando ero a Milano Francesco gli aveva mostrato le piaghe del suo mal francese ben richiuse e guarite e lo aveva assicurato di essere pronto a consumare matrimonio, finsi di ridere, ma non gli dissi niente della porticina sprangata. Piero Donati disapprovava la confidenza del mio buon gentiluomo ottenendomi per una dea ed io mi divertivo del suo eccessivo pudore. Apprezzavo però la sua voglia di rispetto, sempre vigile, e avevo caro che mi giudicasse troppo in alto per ascoltare confidenze e concetti di gusto incerto. In quel momento essere implicata nei concerti e sconcerti della mia corte mi impazientiva. Chi mi salvò trionfalmente dal decadere in una palude di umori maligni e mi restituì ogni facoltà di costruire l'avvenire nel presente fu mio figlio Federico. Era tornato da Roma affaticato e poiché il medico sentenziava di trovarlo molto spossato, passò alcuni giorni di riposo nel suo letto. Ma appena si alzò apparve quello che avevo sognato e desiderato, non più fanciullo ma promessa di un uomo da incantare, con i suoi tredici anni lucidi di trasparenze rosate. Non soltanto la sua persona era gentilmente tagliata, ma ciò che è più raro, una maniera di muoversi sciolta e signorile, un moto della testa esclamativo, evocativo e insieme, uno scrollare della chioma di color castano a lumeggiature ramate, il colore della zazzera virile di Francesco. Annunciavano in lui un giovane in più modi avvertito. Mi dava sorpresa ritrovare le somiglianze che aveva con me nel modulare i gesti e tenere alzata la mano sinistra verticalmente in atto assicurativo. Camminava alla cortigiana perfettamente equilibrato, appena piegandosi un po' verso sinistra con indolenza elegante che era soltanto sua. Cantava tutti i giorni nella sua camera con i nostri musici e anche da solo con voce netta e suave, si esercitava nelle armi con attenzione, andava a cavallo come un San Giorgio parlava bene. Aveva perduto in più di due anni molto della parlata mantovana che pure echeggiava nelle cadenze delle sue frasi e metteva attenzione alla buona pronuncia appresa dai maestri dell'Accademia Romana. Tutto lo interessava, conosceva per istinto l'arte della cortigianeria meglio o almeno quanto ci doveva dimostrare il conte Baldessar Castiglione. Con me aveva un contegno non imparato da nessuno, si inginocchiava davanti alla mia scranna per baciarmi la mano e a volte restava lungamente seduto ai miei piedi sul gradino della pedana. I nostri colloqui presero in poco tempo il tono di confidenza aperta che permette la vera intesa. Le donne, le mie ragazze, non lo intimidivano, scherzava audacemente con loro e il motto giusto non gli mancava mai. Avveniva in me una meravigliata appropriazione. Solo adesso capivo bene che un tale figlio era del tutto differente dai fratelli piccoli, Ercole e Ferrante, persi dietro ai giochi rudi e alle gare fisiche. Federico si sarebbe fatto amare e volentieri si offriva alla prova. E ora gli riconoscevo la docilità di un perfetto allievo che prometteva la possibilità di tempi irrobustiti, anzi raddoppiati. Era inteso tra me e me che ci sarei stata io al suo fianco. Tutto egli avrebbe avuto facoltà di accrescere lo Stato, abilità di maneggiare i negozi politici, capacità alta e temperata di scegliere i più rari godimenti dello spirito e del cuore. Io avrei curato in lui il Principe, l'uomo esemplare del suo tempo, un felice modello umano. Giudicavo bizzarra, ma era di tutti Gonzaga la predilezione di Federico per i nostri laghi. Davvero mantovano il suo svago preferito era salire su una barca lacustre e infrascarsi negli stretti passaggi fra gli isolotti coperti dal verde sfrangiato dei canneti. E lo doveva navigare negli ampi specchi del lago superiore, popolati di uccelli acquatici, dalle modulazioni elegiache o dalle patetiche strida. Per me questi luoghi celavano una magia occulta che poteva inquietare o rasserenare, ma soprattutto mi riportavano la leggenda della bianca statua di Virgilio, annegata nel lago dal governatore Bigotto che sospettava il popolo mantovano di idolatria. Per Federico i laghi erano riserva di bella caccia alle folaghe e alle anatre selvatiche e talvolta di bella pesca di luci e carpe. Così di quando in quando in due o tre barche a più rematori passavamo qualche ora su quegli specchi d'acqua trascolorante. Portavamo con noi musici e cantatrici e alcuni compagni di mio figlio pollastroni maliziosi che le mie ragazze sdegnavano rimandandoli alle cameriste. Dopo i canti e la pesca io non accettavo la caccia alle folaghe con la spingarda in uso da qualche tempo, chiassosa e crudele, manovravo in modo da isolarmi a lungo con Federico discorrendo di molte cose che potevano incitare la sua curiosità o attizzare il suo piacere, un'arte che conosco. Venimo a parlare di mio fratello Alfonso e raccontai per sommi capi del valore, del coraggio e dell'animo costante che gli aveva mostrato nel difendere il suo titolo di duca di Ferrara. Olim, interruppe lui, Alfonso d'Este, Olim, duca di Ferrara, lo diceva sempre sua santità. Ferrara è terra della chiesa e alla chiesa deve ritornare. Gli spiegai di noi este, feudatari da tanti secoli del ducato e della nostra costante gloria che immedesima il nostro nome con quello della città. Era attento e poco persuaso ed io, stimolata dalla curiosità di frugare nel suo animo, gli domandai con aria discorsiva come si fosse trovato con il Papa a Roma. Federico si eresse sulla personcina e mi scrutò con occhi lucenti. O madre cara, davvero volete saperlo? Davvero lo desiderate? Vi dirò tutto di Roma se volete. È una città magnifica, grande, quasi nascosta dal fogliame perché sono tantissime le ville piene di alberi, di boschetti e di statue. Anche molte chiese sono su poggi circondate da alberi. Il centro è pieno di monumenti romani antichi e il fiume la attraversa in mezzo e divide tutto. Corre l'oro nei palazzi, sui vestiti, sulle gualdrappe dei cavalli, sulle tavole da convito. Il Vaticano è un palazzo infinito, la villa dove stavo io, vicinissima alle case del Papa e su un colle coperto di pini a corolla. Volete sapere di sua santità? Era un grande amico per me. Mi faceva ridere con le sue parole grosse quando perdeva il gioco e si arrabbiava. E poi rideva anche lui e mi chiamava Federichino Bello. Il marito di Eleonore era geloso. Figuratevi. Sospirò. Un sospiro da grande. E riprese. E se volete saperlo, madre cara, sua santità era un uomo buono. Aveva sempre un dono per me. Mi mandava vini e vivande dalla sua tavola. Montava in collera, è vero, ma presto si calmava e chiedeva scusa a tutti. Quando ragionava della chiesa si scaldava e riscaldava noi che l'ascoltavamo. voleva bene a Dio. Lo vedo sempre, madre, anche adesso. La sera prego per lui e mi pare che sia vicino a me. Mi saluti e alzi la mano a benedirmi. Aveva parlato in fretta, un po' affannato, come se si fosse svincolato da un peso. Io non replicai. Vedevo bene che il mio avversario vinceva, acquattato nel cuore del mio adolescente. Il racconto breve e ingenuo di Federico faceva supporre una storia quotidiana di partecipazioni e rivelazioni semplici in un clima di scontrosa tenerezza, oltre la quale i fanciulli intuiscono i sentimenti veri. E questa figura egli evocava la sera al momento della preghiera. Non da me, non da suo padre. Solo da lui voleva essere protetto. Bisognava cancellare quell'immagine prepotente a forza di scolorazioni successive, senza alcuna imposizione o polemica. Presto, subito, ordinerò a Rozzone, maestro di Federico, di scrivere, possibilmente alla maniera di Plutarco, una buona storia degli Este, molto chiaramente spiegata. Giulio II vi avrebbe avuto la sua vera parte e l'astuzia della ragione avrebbe prevalso. Tuttavia era amaro confidare ogni cosa al futuro. E dopo aver tanto lottato con quell'uomo trovarsi di fronte il suo fantasma vivo. Per celare il lancinante gemito del mio cuore volsi il capo e mi chinai sull'acqua come se volessi scoprire qualche cosa nel fondo, oltre le fughe a sprazzo dei minutissimi pesciolini neri. «Madre, cara madre!» gridò Federico. «Che cosa guardate? Avete visto la statua di Virgilio? A me, a me! Voglio vederla anch'io!» Parte quarta. Fuggire per tornare L'abito di raso nero con il corpetto a strisce d'argento e cremisi alternate è audace, ma di quell'audacia temperata che di solito ottiene il consenso comune, equilibrato dai gioielli leggeri, doppie catenine d'oro alla francese sottilmente lavorate e collane di perle medie bianchissime fermata da un rubino. Quest'abito mi veste senza appesantirmi e così, nella corolla di raso rigonfio, sto opacata e saldamente divertita in udienza privata davanti al trono del nuovo pontefice, leone decimo di casa Medici, figlio del magnifico Lorenzo. Mi sono inginocchiata ai suoi piedi con un gesto sequiente e ben legato e con giubilo rispettoso ho baciato il sacranello. Lui, a confronto del mio sciolto recitare, è sembrato un po' goffo ma poi si è elevato e tendendomi la mano mi ha condotta, con grande gentilezza, ad una scranna di cuoio rosso chiodata d'oro, prendendo posto in un'altra scranna con un simile. Senza sorridere, se non con una lievissima accentuazione di gioia reverente, gli parlo della mia infinita devozione che gli ha bene accolto, congratulandosi con me, perché mio marito mi ha concesso il permesso di restare a Roma fino a Natale. Vi aspetto alla mia messa in San Pietro, signora Marchesana, dice in tono amabilmente imperativo. Santità, replico io, a cuor leggero vi posso rispondere in umile allegrezza. È vero, il signor Marchese, mio marito mi ha accordato di passare a Roma il Natale e di andare adesso a Napoli, dove quelle regine di casa Aragona, miei parenti, mi hanno invitato, ma soprattutto la mia estrema soddisfazione consiste nel saperlo avviato alla buona salute, per la quale prego di continuo, alzando ceri in tutte le chiese di questa città. Ora domando a vostra santità che mi dia licenza per il mio viaggio a Napoli, tenendo per certo che sarò di ritorno a Roma e assisterò al rito sacro della messa notturna di Natale e niente altro potrebbe essermi più grato. Leone il Toscano, attento alle mie parole, annuiva benignamente. L'arcidiacono di Gabioneta, che mi aveva accompagnato con due delle mie donne rimaste per rispetto con lui in fondo alla sala, gongolava e intervenne a fare le lodi di Francesco, della sua clemenza, della sua dolce natura, manifestata nell'accordare anche in questa occasione la sua grazia alla sposa amabilissima che sarei io. Dietro la scranna del Papa stava il magnifico Giuliano de' Medici, suo fratello, un poco astratto, e suo cugino, il cardinale de' Medici, Giulio, bell'uomo ma a freddo. Ero in uno dei miei momenti di bizzarria ridevole. Questa nuova udienza da me richiesta si svolgeva sul registro di bugie. Pareva che tutti fossero d'accordo per onorare d'incenso un'immagine di Francesco, magnanimo nel concedermi quello che mi sarei presa ad ogni modo il soggiorno di Roma e di Napoli. Nel gioco riguardoso e falso entrava persino un Papa, troppo sottile ed intelletto per non giudicare il senso riposto dei nostri discorsi. La verità, si ammantava di paramenti. Conoscevo il vero pensiero di Francesco. Non so perché gli era parso quello il momento giusto di ricercare, fra i tanti intrighi che minuziosamente si allacciavano in l'assegnazione definitiva delle terre tanto ambite da casa Gonzaga. Asola, Lonato, Peschiera, con la lievità interiore che ci investe quando i nostri disegni riescono e di altri ci curiamo poco, chiedevo di fatti a Leone il riconoscimento di quelle terre. Egli, dopo aver pensato un buon tratto come sempre faceva, mi rispose deprecando con gravità pontificia che fosse tanto lontana la pace tra veneziani e imperatore. Solo per essa, infatti, gli sarebbe stato possibile decidere su quei luoghi. Ma se Dio gli avesse fatto la grazia della pace, egli si sarebbe ricordato di Mantova, quanto si ricordava della sedia apostolica, poiché molto l'amava. Mai, aggiungeva, mai avrebbe mancato di proteggere i Gonzaga. Ogni cosa era detta bene, con poca enfasi e con persuasività. Solo questa speranza mi farà contenta vivere. Figurandomi la gioia del mio Signore, concludo io sospirando e faccio scivolare la mia dose di benigna mansuetudine, dedicando lodi a tutti, a sua santità, alla quale sono per offrire la vita, se necessario, a mio marito, ai miei parenti di sangue d'Aragona e mi mostro felice nell'immaginarmi a Roma la notte di Natale in San Pietro. E queste cose le dicevo convinta, perché in parte era vero che il Natale celebrato in San Pietro riscaldava affettuosamente la zona religiosa del mio cuore. Ma religione a parte, non potevo reprimere l'allegria di vedere aprirsi davanti a me un intero mese di libertà, essendo carezzata e festeggiata dalle due regine aragonesi in quella città regia che era Napoli. Ancora viva nelle lontane visioni di infanzia che mi riportavano a mia madre Eleonora. Il papa ora discorreva con l'arcidiacono di Gabioneta e il magnifico Giuliano, uscendo dal suo torpore, mi volle leggere per omaggio alcuni suoi sonetti alla Petrarchesca. Li declamò, versando negli endecasillabi la bella armonia della lingua toscana. Aferrai a volo un verso, se fosse il passo mio così veloce, e composi il giro di una lode appropriata tenendo d'occhio discorcio leone che ascoltava il fratello deliziandosi. Questo Giovanni dei Medici, arrivato alla massima potenza così abile a sembrare un altro ricreandosi continuamente, era impenetrabile ad ogni influsso, non per custodire una sicurezza di sé, ma per sorprendere negli altri l'essenza delle loro azioni e in certo modo appropriarsene. Intrasentivo sotto quella affabilità costante un'aridità di animo immedicabile e una indifferenza nativa che gli faceva scrutare ogni occasione per carpire un momento acceso in chi veniva a parlargli. Era giovane, non ancora quarantenne, di vita temperata, sapiente di latino e di greco, splendido nel donare, cristiano ben fondato, ma correva davvero in lui quel gelo che mi aveva sfiorata. Mi corteggiavano le spirali flessuose dei sonetti del magnifico Giuliano, la sala splendeva bianca di marmi e parata di broccato, sontuosa e raggelante. Ero lì, con la testa colma di cadenze e saliva in me un senso di indulgenza per l'inconscio Francesco che sognava adesso le sue terre trasmesse per mio tramite dalle mani del pontefice alle sue. Non aveva capito fino a qual punto in quel tempo sovvertito fosse difficile pretendere una città, un borgo, una fortezza. Tutto ormai faceva gola a chiunque. L'ambizione non conosceva più pudori. Questo stesso papa che pareva così scrupoloso si rivelava, a quanto avevo spigolato fra testimoni di reti di curia, determinato nepotista e passava giorni interi a pesare casi e persone progettando regni e principati per suo fratello e per suo nipote Lorenzo. Noi signori cominciavamo a temere il variare delle sue ipotesi. Napoli prima, addirittura un regno, l'aveva attratto. Poi Modena, acquistata per 40.000 ducati dall'imperatore, e Reggio e forse Lucca con altre terre. È un momento anche Ferrara e Urbino. Eh, ora una, ora l'altra città, erano oggetto della cupidigia medicea. Questo dava al papa l'infa vitale, disegnare luoghi di potere e di comando per gente sua. Mi domandavo dove sarebbe andato a parare. La carretta del cardinale d'Aragona, a quattro cavalli, seguita a distanza da quelle della mia corte, donne e uomini, va di buon passo nel mattino di novembre. Prima di averne coscienza, riconosco di essere sulla via Appia, fiancheggiata da pini e cipressi, da capitelli e architravi, rotolati a terra e incorniciati da mobili erbe. La strada pare lanciarsi, seguendo la traiettoria di un giavellotto nell'aperta campagna, velata di toni invernali, ocra, intensi e lievi porporini. Nella bruma rosata dell'alba si immergono monumenti rotondi e colonne isolate come grida. Roma diventa grande proprio qui, dove è desolata e disabitata e le rovine bianche si spezzano in mutilazioni sublimi. Paese da ritrarre, mi dico, e subito mi ricordo di un libro su Roma, a carte disegnate, che tante volte sfogliavo nella mia infanzia a Ferrara, fermandomi su ogni pagina per domandare più particolari, più scoperte, più lineamenti della città. A Mantova amavo soprammodo nella camera dipinta il particolare presso la finestra dove su un collo ideale il nostro Mantegna aveva disposto a sua fantasia i simboli per i quali Roma si fa riconoscere in ogni figurazione. Il Colosseo, l'arco di Tito inserito nelle mura della città, la grande statua di Ercole Vaticano, dominante da un alto basamento, il rosso ponte Nomentano e la puntita piramide di Caio Cestio, triangoli chiari. Con me, nella carretta odorosa di Cuoio Nuovo, sono poche ragazze difese le ginocchia da una coperta di gatti persiani morbidissima, dono del cardinale d'Aragona che mi predilige da parente stretto. Il sussultare delle ruote sui lastroni romani mi dà una straordinaria emozione. Su quelle pietre levigate avevano cavalcato Nerone, sempre fuggitivo da se stesso, e Tiberio nel suo correre verso Capri alla ricerca di una ragione convincente per vivere. Ricordi di studio mi fanno compagnia per un pezzo finché si confondono a gradi. Qualche ora fa ci siamo d'estate a notte fonda per essere pronte e ancora una nebbia di sonno mi preme sugli occhi persuadendomi ad un tiepido soppore. Dopo un'ora mi desto e le mie donne dormono. La via Appia si allunga in un silenzio totale che solo il trotto dei cavalli ornati di sonagliere si insinua a retmare. I monumenti si sono infittiti ai lati della strada, ognuno con la sua storia di vita conclusa. Biancheggianti o ingrigiti non danno tristezza. Vivono in quel silenzio allontanati in una solitudine quasi mitica. L'antichissimo scenario delineato all'orizzonte dal profilo dei colli albani mi solleva ad una pace intensa da molto tempo sconosciuta. Ad un tratto galleggiano in quella pace secolare i casi che mi portano lontano dalla mia città, verso Napoli, dalle mie parenti aragonesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.